Buongiorno cari amici di Sorrento Channel.tv e Penisola.tv Ci troviamo a Metra, precisamente giù al porto e dal vallone sta uscendo dell'acqua marroncina come potete vedere dalle immagini la differenza tra l'acqua pulita e l'acqua sporca ci si fa il bagno, fa caldo qui e le immagini parlano da soli noi non sappiamo che acqua sia che cosa sta sversando a mare però, come potete vedere dalle immagini l'acqua è torbida e sta arrivando a poco a poco vicino al porto di Metra le immagini parlano da sole l'operatore Ambruso Diego si trova sul posto l'operatore Ambruso Diego si trova sul posto l'acqua marroncina l'acqua marroncina l'acqua marroncina